E ben ritrovati sul canale, io sono Fabio di Altec23, oggi altro prodottino simpatico della Lidl stiamo parlando di un rullo massaggiante attivo, scopriremo perché è attivo è un rullo massaggiante della Sanitas, e allora sigla unboxing e recensione e come detto abbiamo fatto una capatina alla Lidl, andiamo ad aprire il nostro pacchetto prodotto della Sanitas, ecco come si presenta sulla parte anteriore dello scatolo il marchio Sanitas, supporta la rigenerazione e il rafforzamento di diversi gruppi muscolari già conosco questo tipo di accessori per il fitness ma così piccoli e a batteria non ne avevo mai provati quindi andiamo a scoprire insieme bello pesante, quindi nello scatolo abbiamo un cavetto usb di tipo a con mini usb devo dire molto scadente, peccato non ci sia la type si nel 2023 non capisco perché poi questo manualetto di istruzioni che onestamente non ci serve apriamolo velocemente allora gomma ben fatta, al tatto veramente bello, piacevole, snodato, stranamente non puzza poi abbiamo spinotto della ricarica mini usb, peccato manchi la type si e dall'altro lato tasto di accensione con tre led di stato che andranno poi a servirci per verificare lo stato di carica della batteria e l'impostazione delle tre modalità di utilizzo innanzitutto vediamo se si accende sì vibra vibra di più e vibra tanto e così si spegne, ah no questa è un'altra modalità, quattro modalità di utilizzo e così dovrebbe essere spento e allora questi sono gli standard per quanto riguarda i rulli massaggianti vengono utilizzati tantissimo nelle attività a corpo libero nel pilates e in altre discipline di fitness e questo è lui, guardate veramente piccolo è il sanitas come rivestimento mettiamoli magari da parte questo allora come rivestimento ragazzi devo dire la verità mi piace tantissimo poi abbiamo la parte chiudata centralmente e esternamente più una parte con questi pallini credo che sia materiale, un silicone misto a gomma con un rivestimento veramente bello ben fatto per una volta un prodotto della Lidl che mi piace davvero tanto come funzionano queste? allora andiamo a scegliere un distretto muscolare da trattare ok? ad esempio non so gambe, glutei, schiena, zona del dorso, braccia e poi si andranno a fare delle passate con tutto il peso del corpo questo movimento servirà ad andare a sciogliere quelle tensioni muscolari che si sono create o durante un'intensa attività fisica o anche semplicemente lo stress della vita quotidiana ok? ci sono tantissimi esercizi per i glutei, tantissimi esercizi per i quadricipiti e così via ragazzi con un prodotto del genere possiamo andare a trattare davvero tutto il corpo e a migliorare la nostra sensazione di benessere la cosa bella è che comunque qua abbiamo una vibrazione nel momento in cui lo andiamo ad utilizzare qua mi vibra tutto ragazzi però potrebbe essere di aiuto non so quanto però quindi abbiamo detto vibrazione numero 1 vibrazione numero 2 vibrazione numero 3 ed è anche abbastanza silenzioso sentite che bordello che fa magari potremmo trattare i nostri tricipiti e poi questa di impulso poi abbiamo queste tre parti quindi la centrale e le laterali che sono snodate tra di loro allora ragazzi veramente poco da dire per questa tipologia di prodotto però vi posso assicurare che questi sono i fratelli maggior questo è lui ad esservi onesto devo dire che mi piace davvero tanto quindi per me questa volta Lidl ok prodotto promosso a pieni voti è veramente ragazzi qua stiamo parlando di un accessorio per il nostro benessere fisico che vi consiglio veramente perché se non l'avete mai utilizzato fare delle sedute di scarico con questa tipologia di prodotto vi aiuta davvero tanto poi su youtube trovate veramente una marea di esercizi da poter fare con questo nel caso chiedetemi che ve le do io io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale così ci aiutate a crescere sempre di più un bel like se questo video vi è piaciuto e attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno settimanalmente e noi ci vediamo alla prossima ciao belli